Abbiamo già dedicato varie puntate all'autunno del Medioevo, capolavoro di storia medievale scritto ormai un secolo fa da Johann Wissinger. Abbiamo fatto 16 puntate e questa è la 17esima perché il libro è abbastanza corposo, merita di essere letto e commentato passo dopo passo con i dovuti tempi. Oggi arriviamo al capitolo 15, dedicato al simbolismo. Come sempre è una storia delle idee, del sentire, della mentalità medievale, tardo medievale. E però lo stile di Wissinger è molto interessante e oggi proseguiamo, andiamo a cominciare. Un sorso di caffè nella stazza con la scritta andiamo a cominciare che non trovavo ma c'è e va sempre mostrata perché è una tazza che mi hanno regalato i miei ex studenti a memoria dei primi video che facevo. Con me ci sono come sempre i soliti compagni d'avventura, cioè Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè, il mostro peloso, il cuscino là e quest'altro mostriciatolo qui e poi ci sono io che mi chiamo Armando Ferretti. Sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da due anni in mezzo, quasi tre, su questo canale realizzo video e spiegazioni di storia, di filosofia ed educazione civica che generalmente seguono il programma che si fa alle superiori. Ma appunto visto che tanti video li abbiamo fatti, tanti argomenti li abbiamo fatti, mi concedo ogni tanto, vi regalo, spero che vi piacciono, dei video anche in cui leggiamo alcune opere fuori copyright, quindi nel pubblico dominio, che secondo me sono interessanti. Abbiamo letto alcune opere di filosofia e da poco abbiamo iniziato a leggere anche opere di storia, anche se con la storia è un po' più difficile trovare opere fuori copyright perché le opere vecchie forse sono un po' sorpassate a volte, mentre in filosofia anche le opere vecchissime durano per secoli perché Platone è ancora valido, ovviamente, almeno interessante. In storia, insomma, il passare degli anni fa invecchiare male certe opere di un tempo, però in certi casi alcuni grandi storici del passato meritano di essere riletti anche se è passato un secolo da quando hanno fatto le loro analisi o i loro saggi e così anche per quest'opera di Johan Huizingas, storico olandese, intitolata l'autunno del Medioevo dedicata proprio agli ultimi due secoli, sostanzialmente del Medioevo del 300 e del 400, visti soprattutto dal punto di vista della mentalità e soprattutto nell'area borgognona, francese, olandese per intenderci. Abbiamo, come detto, fatto già tante puntate e oggi proseguiamo col solito metodo che utilizziamo, cioè io leggerò una lunga parte del capitolo 15, circa la metà, e la leggerò per intero in una traduzione nuova che ho fatto apposta, proprio perché l'opera originale, in lingua originale è fuori copyright, anche la prima versione inglese è fuori copyright, versioni italiane è fuori copyright, a me risulta che non ce ne siano ancora, quindi ho dovuto ritradurla, però vabbè, si fa. Quindi leggerò metà capitolo, poi mi sfermerò, mi bloccherò e commenterò questo mezzo capitolo, in descrizione trovate già le parti divise tra lettura e commento, poi leggerò la seconda parte del capitolo e commenterò a parte anche quella, così se volete solo letture vi fate solo i capitoli di lettura, se volete solo i commenti solo i capitoletti di commenti, altrimenti fate andare il video e seguite tutto. Ricominciamo dal capitolo 15. Capitolo 15. Il simbolismo in declino Così l'emozione religiosa teneva sempre a tramutarsi in immagini. Il mistero sembrava divenire afferrabile dalla mente quando investito in una forma percettibile. Il bisogno di adorare l'inneffabile nelle forme visibili creava continuamente figure sempre nuove. Nel XIV secolo la croce e l'agnello non bastarono più per le fusioni di traboccante amore offerto a Gesù. A questi si aggiunse l'adorazione del nome di Gesù che ogni tanto rischiava di ecclissare anche quella della croce. Enrico Suso si tatuò il nome di Gesù sul cuore e si paragonò all'amante che portava il nome dell'amata ricamato sul mantello. Bernardino da Siena, al termine di una commovente predica, accese due candele e mostrò alla moltitudine una tavola lungo un metro, recante su fondo azzurro il nome di Gesù in lettere d'oro, circondato dai raggi del sole. Le persone che riempivano la chiesa si inginocchiarono e piansero per l'emozione. L'usanza si diffondeva soprattutto con i predicatori francescani. Dionigi il certosino venne rappresentato nell'arte mentre teneva una tavola del genere tra le mani alzate. Il sole, come caresta sopra lo stemma di Ginevra, deriva da questo uso. Le autorità ecclesiastiche guardarono alla questione con un certo sospetto. Si parlava di superstizione e di idolatria. Ci furono tumulti a favore e contro. Bernardino fu convocato davanti alla curia e l'uso fu proibito da Papa Martino V. Più o meno nello stesso periodo fu introdotta con successo nel rito una forma molto simile delle orazioni di Cristo sotto un segno visibile, cioè quella dell'ostensorio. Anche a questo la chiesa si oppose dapprima. L'uso dell'ostensorio era originariamente proibito se non durante la settimana del Corpus Domini. Assumendo invece nella forma originaria di torre quello di un sole raggiante, l'ostensorio divenne molto simile alla tavola recante il nome di Gesù che la chiesa disapprovava. L'abbondanza di immagini il cui pensiero religioso minacciava di dissolversi avrebbe prodotto solo una fantasmagoria caotica se la concezione simbolica non l'avesse trasformata in un vasto sistema dove ogni figura aveva il suo posto. Di nessuna grande verità la mente medievale era più consapevole della frase di San Paolo «Videmus nunc per speculum in enigmate» «Tun cautem facie ad faciem». Il Medioevo non ha mai dimenticato che tutte le cose sarebbero assurde se il loro significato si esaurisse nella loro funzione e nel loro posto nel mondo fenomenico, se per la loro essenza non raggiungessero un mondo all'ilà di questo. Quest'idea di un significato più profondo nelle cose ordinarie è familiare anche a noi, indipendentemente dalle convinzioni religiose. Come un sentimento indefinito che può essere evocato in qualsiasi momento, dal rumore delle gocce di pioggia sulle foglie o dalla luce di una lampada su un tavolo. Tali sensazioni possono assumere la forma di un'oppressione morbosa, così che tutte le cose sembrano essere cariche di una minaccia o di un enigma che dobbiamo risolvere ad ogni costo. Oppure possono essere vissuti come fonti di tranquillità e sicurezza, riempiendoci della sensazione che anche la nostra stessa vita si è coinvolta in questo significato nascosto del mondo. Quanto più questa percezione converge sull'uno assoluto, dove tutte le cose emanano, quanto prima tenderà a passare dall'intuizione di un momento lucido a una convinzione permanente e formulata. Coltivando il senso continuo della nostra connessione con il potere, che ha reso le cose così come sono, siamo più incline alla loro ricezione. Non è necessario che il volto esteriore della natura cambi, ma cambiano le espressioni di significato in essa contenute. Era morto ed è di nuovo vivo. È come la differenza tra guardare una persona senza amore o la stessa persona con amore. Quando vediamo tutte le cose in Dio e le riferiamo a Lui, leggiamo nelle questioni comuni espressioni superiori di significato. Ecco dunque il fondamento psicologico da cui nasce il simbolismo. In Dio nulla è privo di senso. Ni il vacuum neque sino signo apud deum, diceva Sant'Ireneo. Così la convinzione di un significato trascendentale in tutte le cose cerca di formularsi. Intorno alla figura della divinità si cristallizza un maestroso sistema di figure correlate, che tutte fanno riferimento a Lui perché tutte le cose traggono il loro significato da Lui. Il mondo si dispiega come un vasto insieme di simboli, come una cattedrale di idee. È la concezione più ricamente ritmica del mondo, espressione polifonica di eterna armonia. Nel Medioevo l'atteggiamento simbolista era molto più evidente di quello causale o genetico. Non che quest'ultimo modo di concepire il mondo come processo evolutivo fosse del tutto assente. Anche il pensiero medievale cercava di comprendere le cose attraverso la loro origine. Ma privo di metodi sperimentali trascurando anche l'osservazione e l'analisi si ridusse per annunciare relazioni genetiche alla deduzione astratta. Tutte le nozioni di una cosa che procede da un'altra assumevano la forma ingenua di procreazione o ramificazione. L'immagine di un albero o di un pedigree bastava rappresentare eventuali relazioni di origine e di causa. Un arbor de origine iuris et legum ad esempio classificava ogni diritto sotto forma di albero con numerosi rami. A causa dei suoi metodi primitivi il pensiero evoluzionista del Medioevo era destinato a rimanere schematico, arbitrario e sterile. Dal punto di vista causale il simbolismo appare come una sorta di cortocircuito del pensiero. Invece di cercare la relazione tra due cose seguendo le deviazioni nascoste delle loro connessioni causali, il pensiero faceva un salto e scopriva la loro relazione non in una connessione di causa o di effetti, ma in una connessione di significato o di finalità. Tale connessione sembrerà subito convincente purché le due cose abbiano in comune una qualità essenzialmente riconducibile ad un valore generale. Espresse in termini di psicologia sperimentale, ogni associazione mentale basata su una similitudine casuale, qualsiasi, creerà immediatamente l'idea di una connessione essenziale e mistica. Questa può sembrare una funzione mentale piuttosto scarsa. Inoltre si rivela una funzione molto primitiva se considerata da un punto di vista etnologico. Il pensiero primitivo è caratterizzato da una generale debolezza di percezione dell'esatta demarcazione tra concetti diversi, così che tende ad incorporare nella nozione di qualcosa di definito tutte le nozioni ad essa collegate da qualsiasi relazione o similitudine. Con questa tendenza la funzione simbolizzante è strettamente correlata. È tuttavia possibile vedere il simbolismo in una luce più favorevole, abbandonando per un po' il punto di vista della scienza moderna. Il simbolismo perderà questa apparenza di arbitrarietà e di abortività quando si terrà conto del fatto che esso è indissolubilmente legato alla concezione del mondo che nel Medioevo si chiamava realismo e che la filosofia moderna preferisce chiamare, anche se meno correttamente, idealismo platonico. L'assimilazione simbolica fondata su proprietà comuni presuppone l'idea che queste proprietà siano essenziali alle cose. La visione di rose bianche e rosse che sbocciano tra le spine richiama un tempo un'assimilazione simbolica nella mente medievale, per esempio quella di vergine e martiri risplendenti di gloria in mezzo ai loro persecutori. L'assimilazione si produce perché gli attributi sono gli stessi, la bellezza, la tenerezza, la purezza, i colori delle rose sono anche quelli delle vergini, il loro colore rosso quello del sangue dei martiri. Ma questa somiglianza avrà un significato mistico solo se il termine medio che collega i due termini del concetto simbolico esprime un'essenzialità comune ad entrambi. In altre parole, se il rossore e il bianco sono qualcosa di più che nomi per una differenza fisica basata sulla quantità, si sono concepiti come essenze, come cioè realtà. La mente del selvaggio, del bambino e del poeta non li vede mai altrimenti. Ora, anche la bellezza, la tenerezza, il candore, l'essere realtà sono entità. Di conseguenza tutto ciò che è bello, tenero o bianco deve avere un'essenza comune, la stessa ragione di esistere, lo stesso significato davanti a Dio. Nell'evidenziare questi legami molto forti tra simbolismo e realismo in senso scolastico dovremo stare attenti a non pensare troppo alla disputa sugli universali. Sappiamo bene che il realismo che dichiarava universali ante rem e attribuiva essenzialità e preesistenza alle idee generali non dominò senza lotta il pensiero medievale. Indubbiamente c'erano anche nominalisti. Ma non sembra troppo ardito affermare che il nominalismo radicale non è mai stato altro che una reazione, un'opposizione, una controcorrente che vanamente disputava il terreno con le tendenze fondamentali dello spirito medievale. In quanto formule filosofiche realismo e nominalismo si erano ben presto fatti l'uno o l'altro concessioni necessarie. Il nuovo nominalismo del Trecento, quello degli occamiti o moderni, si limitò a rimuovere alcuni inconvenienti di un realismo estremo che lasciò intatti relegando il dominio della fede in un mondo al di là delle speculazioni filosofiche della ragione. Ora, è nell'ambito della fede che prevale il realismo e qui era considerarsi più come l'atteggiamento mentale di un'intera epoca che come un'opinione filosofica. In questo senso più ampio può essere considerato inerente alla civiltà del Medioevo e come dominante tutte le espressioni del pensiero e della immaginazione. Indubbiamente il neoplatonismo influenzò fortemente la teologia medievale, ma non fu l'unica causa della generale tendenza realista del pensiero. Ogni mente primitiva è realista nel senso medievale, indipendentemente da ogni influenza filosofica. A una tale mentalità, tutto ciò che riceve un nome diventa un'entità e prende una forma che si proietta nel cielo. Questa forma, nella maggior parte dei casi, sarà la forma umana. Tutto il realismo in senso medievale porta all'antropomorfismo. Avendo attribuito un'esistenza reale a un'idea, la mente vuole vederla viva e può farlo solo personificandola. Nasce così l'allegoria. Non è la stessa cosa del simbolismo. Il simbolismo esprime la connessione tra due idee. L'allegoria da forma visibile alla concezione di tale connessione. Il simbolismo è una funzione molto profonda della mente. L'allegoria è superficiale. Aiuta il pensiero simbolico ad esprimersi, ma allo stesso tempo lo mette in pericolo sostituendo una figura a un'idea vivente. La forza del simbolo si perde facilmente nell'allegoria. Quindi l'allegoria in sé implica, fin dall'inizio, normalizzare, proiettare su una superficie, cristallizzare. Inoltre la letteratura medievale l'aveva accolto come un relitto della decadente antichità. Marziano Scapella e Prudenzio erano stati i modelli. L'allegoria raramente perde un'aria di anzianità e pedanteria. Tuttavia il suo uso soddisfaceva un desiderio molto serio della mente medievale. Come spiegare altrimenti la preferenza di cui questa forma ha goduto così a lungo? Questi tre modi di pensare insieme, realismo, simbolismo e personificazione, hanno illuminato la mente medievale con un'ondata di luce. Il valore etico ed estetico dell'interpretazione simbolica del mondo era inestimabile. Abbracciando tutta la natura e tutta la storia, il simbolismo ha dato una concezione del mondo di un'unità ancora più rigorosa di quella che la scienza moderna può offrire. L'immagine simbolica del mondo si distingue per l'ordine impeccabile, la struttura architettonica, la subordinazione gerarchica. Infatti ogni connessione simbolica implica una differenza di rango o di santità. Due cose di uguale valore difficilmente sono suscettibili di una relazione simbolica tra loro, a meno che non siano entrambe connesse con una terza cosa di ordine superiore. Il pensiero simbolista ammette un'infinità di relazioni tra le cose. A ogni cosa può denotare un numero di idee distinte per le sue diverse qualità speciali e una qualità può avere anche diversi significati simbolici. Le più alte concezioni hanno simboli a migliaia. Niente è troppo umile per rappresentare e glorificare i sublime. La noce significa Cristo. Il dolce nocciolo è la sua natura divina. La buccia esterna verde e carnosa è la sua umanità. Il guscio di legno in mezzo è la croce. Così tutte le cose elevano i pensieri all'eterno, essendo pensati come simboli dell'altissimo in una gradazione costante, sono tutti trasfusi dalla gloria della maestà divina. Ogni pietra preziosa, oltre al suo splendore naturale, brilla per la brillantezza dei suoi valori simbolici. L'assimilazione delle rose e della virginità è molto più di un confronto poetico, perché rivela la loro comune essenza. Man mano che ogni nozione sorge nella mente, la logica del simbolismo crea un'armonia di idee. La qualità speciale di ciascuno di essi si perde in questa armonia ideale e il rigore della concezione razionale è temperato dalla presentazione di una qualche unità mistica. Un'armonia coerente regna tra tutti i domini spirituali. L'Antico Testamento è la prefigurazione del nuovo. La storia profana riflette l'uno e l'altro. Intorno ad ogni idea si raggruppano altre idee, formando figure simmetriche, come in un caleidoscopio. Alla fine tutti i simboli si raggruppano attorno al mistero centrale dell'eucaristia. Qui c'è più che somiglianza simbolica, c'è identità. L'ostia è Cristo e il sacerdote, mangiandola, diventa veramente il sepolcro del Signore. Il mondo, discutibile in sé, è diventato accettabile per il suo significato simbolico. Per ogni oggetto, ogni commercio comune, aveva un rapporto mistico con il Santissimo che lo nobilitava. Buonaventura identificava simbolicamente l'artigianato con l'eterna generazione e incarnazione del Verbo e con l'alleanza tra Dio e l'anima. Anche l'amore profano è legato ad una connessione simbolica all'amore divino. In questo modo, ogni sofferenza individuale non è che l'ombra della sofferenza divina e ogni virtù è come realizzazione parziale della bontà assoluta. Il simbolismo, distaccando così la sofferenza personale e la virtù dalla sfera dell'individuale per elevarle a quella dell'universale, costituiva un salutare contrappeso al forte individualismo religioso, teso alla salvezza personale che è caratteristico nel Medioevo. Il simbolismo religioso offriva un vantaggio culturale in più. Alla lettera del dogma formulato, rigido ed esplicito in sé stesso, l'immaginario fiorito dei simboli formava, per così dire, un accompagnamento musicale che con la sua perfetta armonia permetteva alla mente di trascendere le deficienze dell'espressione logica. Il simbolismo ha aperto all'arte tutta la ricchezza delle concezioni religiose, da esprimere in forme piene di colore e di melodia, eppure vaghe e implicite, affinché, attraverso queste, le intuizioni più profonde potessero librarsi verso l'ineffabile. Allora, questa prima metà del capitolo, del capitolo 15, quello sul simbolismo, è, come avete notato, molto particolare. È forse anche piuttosto difficile rispetto alla media a cui ci è abituato Wissing. Wissing ha uno stile abbastanza afforbito, elegante, quindi i periodi sono anche a volte difficili da leggere, articolati e a volte sfugge un po' il senso di quello che sta dicendo. Ma questo capitolo, rispetto alla media, ha in più anche un problema concettuale, perché parla di filosofia alla fine. E, bisogna dirlo, filosofia non semplice, quindi Wissing si trova forse anche un po' in difficoltà a introdurre temi filosofici in un salto di storia, dove si è parlato finora soprattutto di mentalità del popolo comune, insomma, o superstizioni o religiose, ma comunque molto, molto concrete. E adesso si trova a parlare invece di questioni filosofiche, e però ne parlano, perché lui parte da questo assunto. Alla fine, nel Medioevo, in questa fase del terreno Medioevo, c'è un fortissimo, un larghissimo uso del simbolismo. Cioè, ogni oggetto, ogni figura, ogni cosa, viene usato come simbolo che rimanda in qualche misura a Dio. Per cui, la rosa è simbolo che ricorda la virginità, di virginità di Maria, in questo caso gli altri santi e sante del tipo. La noce, cita a un certo punto, ricorda Gesù, perché è un simbolo di Gesù, insomma, un simbolismo anche eccessivo, ovviamente, perché ogni cosa diventa simbolo di qualcos'altro. Perfino il nome di Gesù diventa un simbolo. La scritta Gesù viene usata quasi fosse un'opera magica, un qualcosa da idolatrare e adorare, perché poi alla fine quei simboli rischio di finire per adorare il simbolo e non adorare più ciò a cui quel simbolo dovrebbe rimandare. esempio, se ricordo che Gesù è simbolizzato da una noce, porto sull'altare una noce, inizio ad idolatrare una noce, invece di adorare Dio, di adorare Gesù, il rischio è quello di idolatrare, che so, lo stensorio, invece di ciò che lo stensorio dovrebbe rappresentare. Effettivamente questo è un rischio presente sempre nel Miroevo, come è presente anche in epoche diverse, c'è da dire, contro cui la Chiesa tentò anche di arginare, cita alcuni casi di papi, di espressioni su contro, l'idolatria, verso ad esempio lo stensorio e altre cose di questo genere. Segno che bisognava starci attenti, però la tendenza a trovare simboli era molto forte e questo si spiega anche appunto con la filosofia, perché Uvizica ci fa notare, parlando di realismo, cita la disputa sugli universali. Ora, della disputa sugli universali abbiamo parlato in filosofia, vi metto un link in descrizione proprio alla lezione filosofica sulla disputa sugli universali, in cui parlavamo anche del realismo. Qui Uvizica lo riduce tutto a platonismo, in realtà è un po' più complicato di così, Uvizica semplifica un po', forse perché anche il suo approccio a questo problema è più da storico che da filosofo, però in realtà la disputa sugli universali è una disputa importante del basso medioevo che durante il 300 e il 400 nell'epoca studiata da Uvizica sta già evolvendo verso un'altra direzione e lui stesso lo ammette, perché lui dice a un certo punto, sì, forse parlare di realismo in questa fase non è proprio corretto perché si dice spesso che iniziava a emergere il nominalismo e lui cita gli occamisti, cioè Occam, però dice anche. Però, attenzione, secondo me il nominalismo era una reazione al realismo, era un'avanguardia, il vero spirito del tempo era quello realista. Ora, chiariamo un po' il punto, perché immagino che se non avete ben presente la lezione sulla disputa sugli universali, magari tutti questi discorsi e queste parole vi siano un po' suonate strane. Allora, cos'è questa disputa detta brevemente senza andarci troppo a mettere nei guai con termini troppo o concetti troppo strettamente filosofici e tecnici, rimaniamo un po' sul generico, ma diamo l'idea chiara delle cose. Allora, tra le mie due evo, uno dei tempi più importanti di cui si discuteva era se i concetti universali, gli universali, fossero realtà veramente esistenti. Cosa sono gli universali, ovviamente, bisogna chiedersi. Gli universali sono quei termini o concetti o idee che rappresentano più cose. esempio, uomo. Il concetto di uomo è un universale, perché è una parola uomo che racchiude tutti gli uomini in un certo senso, che rappresenta tutti gli uomini. In fondo noi diciamo questo è un uomo, questo è un uomo, questo è un uomo, questo è un uomo, indicando quattro uomini diversi, perché è come se dicessimo lo facciamo appartenere alla categoria degli uomini, perché ci sembra che abbia le caratteristiche che contraddistinguono un uomo. Quando ho due persone di età diversa, uno di otto anni e uno di quaranta, dico questo è un uomo e questo è un bambino, perché lo dico? Perché quello di quarant'anni evidentemente ha delle caratteristiche che lo fanno assomigliare al concetto di uomo, quello di otto anni ha delle caratteristiche che lo fanno assomigliare al concetto di bambino. Bene? Ora, queste caratteristiche che lo fanno assomigliare al concetto di uomo e di bambino, questo concetto di uomo e di bambino, che concetto è? È solo un concetto, cioè è semplicemente un'idea che abbiamo in testa? O esiste da qualche parte l'uomo, l'universale di uomo? Esiste da qualche parte l'universale di animale? Esiste da qualche parte l'universale di, che ne so, computer, eccetera? Per i medievali, per noi, gli uomini di oggi, è molto più facile pensare che questi siano puri concetti mentali che ci siamo creati noi, siamo creati l'idea di uomo, così confrontando gli uomini. Ci siamo inventati l'idea di animale, perché abbiamo visto tanti esseri viventi di un certo tipo e abbiamo detto che abbiamo il concetto mentale di animale, la classificazione e via così. I medievali invece pensavano, forti del platonismo soprattutto perché è un'influenza che nasce da Platone, ma poi rafforzata anche da Aristotele, che in fondo tra due cose simili ci doveva essere qualcosa di reale e comune. non potevano solo assomigliarsi e basta e noi con la mente creare classificazioni, ma visto che tutto era stato creato da Dio, evidentemente Dio quando aveva creato gli uomini aveva usato un modello. Quindi l'universale di uomo è un'idea nella mente di Dio. Dio quando ha creato l'uomo, prima se l'ha immaginato, si è fatto il modello mentale e poi ha creato gli uomini, facendoli come copie del suo modello mentale. Quando Dio ha creato le montagne, prima ci ha pensato un attimo, si è fatto il modello mentale di montagna e poi ha creato l'Everest, il K2, il Monte Bianco, il Monte Rosa eccetera, come variazioni del modello che aveva in testa. Quindi esiste l'universale di montagna, esiste l'universale di uomo, esiste qualcosa che accomuna tutte le cose tra loro simili e questo qualcosa è l'universale che sta nella mente di Dio. Tutto questo cosa c'entra con il simbolismo? Dice Ockham, alla fine il simbolismo è una forma di richiamo a questo ideale, a quest'idea realista del mondo, cioè l'idea che dietro le cose ci sia sempre un'essenza, ci sia sempre qualcosa. Cioè io vedo degli uomini qui, uomini che invecchiano, che peggiorano, che nascono, vivono e muoiono, fugaci, no? Ma deve esistere l'uomo con la U maiuscola, l'umanità con la U maiuscola. Come vedo delle rose che appassiscono, ma deve esistere la rosa con la R maiuscola, no? Queste cose eterne da qualche parte devono stare, stanno nella mente di Dio. Quindi, quando io dico che una rosa può diventare simbolo della verginità, perché? Perché ha delle caratteristiche in comune con la verginità, la bellezza, la morbidezza, il colore eccetera, queste caratteristiche la morbidezza. Che cos'è la morbidezza? È un universale. Deriva da un'idea nella mente di Dio. Cos'è la bellezza? La bellezza è un'idea platonica, cioè sta nella mente di Dio. Quindi, quando io vedo bella una cosa, è perché la bellezza esiste da qualche parte. È perché quella rosa è bella, perché partecipa, direi Platone, a un po' della bellezza come concetto, come entità, che si trova nella mente di Dio. Le cose sono belle nella misura in cui ricevono un po' della bellezza divina. Le cose sono sante nella misura in cui ricevono un po' della santità divina. Dunque, le cose possono diventare simboli di qualcos'altro perché hanno questa connessione con le idee della mente di Dio. Quindi, visione, si dice realista, perché gli universali sono reali. Gli universali esistono. Questo è quello che dice, Huizenga, pensano i medievali. Secondo lui è diffuso. Questo porta al simbolismo, porta anche alle allegorie, che però, attenzione, le allegorie sono un po' più volgarizzazione di tutto questo, perché simbolismo è qualcosa anche di profondo. Dobbiamo pensare a cosa possa fare da simbolo a qualcos'altro. Invece, l'allegoria ha una semplificazione nel messaggio molto spesso. È quando un concetto viene personificato. Quindi, invece di parlare di concetti come bellezza, come realtà, concetti astratti, si trovano dei personaggi che facciano da simbolo ai concetti, ma personaggi umani, concreti, toccabili. E allora lì, vabbè, è una semplificazione, ripeto, secondo Huizenga, dei simboli che vengono posti a livello molto terra-terra per farli capire. Insomma, come capite, è un capitolo un po' complicato. Spero che sia un po' più chiaro questo rapporto tra cose simboli, tra idee della mente di Dio e cose reali e andiamo avanti. Nel Tarro Medioevo il declino di questo modo di pensare era già da tempo in atto. La rappresentazione dell'universo in un grande sistema di relazioni simboliche era da tempo completata. Tuttavia, l'abitudine simbolizzante si manteneva, aggiungendo figure sempre nuove che erano come fiori pietrificati. Il simbolismo, in ogni momento, mostrava una tendenza a diventare meccanico. Una volta accettato come principio, diventava un prodotto non solo dell'entusiasmo poetico, ma anche di un ragionamento sottile e, come tale, diventava un parassita che si aggrappava al pensiero, facendolo degenerare. La simulazione simbolica si basa spesso solo su un'uguaglianza di numero. Si apre così una prospettiva immensa di serie ideali di relazioni, messe non sono altro che esercizi aritmetici. Così i 12 mesi significavano gli apostoli, le quattro stagioni gli evangelisti, l'anno Cristo. Un gruppo regolare era formato da sistemi di sette. Alle sette virtù corrispondono le sette suppliche del Padre Nostro, i sette doni dello Spirito Santo, le sette beatitudini e i sette salmi penitenziali. Tutti questi gruppi di sette sono di nuovo connessi con i sette momenti della passione e i sette sacramenti. Ciascuno di essi si oppone a uno dei sette peccati capitali che sono rappresentati da sette animali eseguiti da sette malattie. Un direttore di coscienze come Gerson, da cui questi esempi sono mutuati, tende a porre l'accento sul valore morale e pratico di questi simbolismi. In un visionario come Lendler Roche prevale l'elemento estetico. Le sue speculazioni simboliche sono molto elaborate e alquanto fittizie. Per ottenere un sistema in cui entrano i numeri 15 e 10 rappresenta i cicli di 150 ave e di 15 paters che prescrisse la sua confraternita del rosario come la somma delle 11 sfere celesti ai 4 elementi e poi moltiplica per le 10 categorie sostanza, qualità, ecc. Come prodotto ottiene 150 abitudini naturali. Allo stesso modo la moltiplicazione di 10 comandamenti per 15 virtù dà 150 abitudini morali. Per arrivare alla cifra di 15 virtù conta, oltre alle 3 virtù teologali e alle 4 virtù cardinali, 7 virtù capitali che fa 14. Rimangono altre due virtù, la religione e la penitenza, fa 16, che è una di troppo, ma siccome la temperanza della serie cardinale è identica all'astinenza della serie maiuscola, si ottiene infine il numero 15. Ognuna di queste 15 virtù è una regina che ha il suo letto nuziale in una delle divisioni del pater noster. Ognuna delle parole dell'ave significa una delle 15 perfezioni della Vergine. È nello stesso tempo una pietra preziosa ed è capace di scacciare un peccato o l'animale che rappresenta quel peccato. Rappresentano anche altre cose, i rami di un albero che porta tutti i beati, i gradini di una scala. Per citare solo due esempi, la parola ave significa l'innocenza della Vergine e il diamante, scaccia l'orgoglio o il leone che rappresenta l'orgoglio. La parola Maria invece denota la sua saggezza e il carbonchio, scaccia l'invidia simboleggiata da un cane nero. A volte Alain rimane un po' invischiato nel suo complicatissimo sistema di simbolismi. Il simbolismo era infatti messo in scena. Trovare simboli e allegorie era diventato un passatempo intellettuale senza senso, una superficiale fantasia che poggiava su un'unica analogia. La santità dell'oggetto gli conferisce ancora un piccolo valore spirituale. Come non appena la maniera del simbolismo si estende a queste profane o semplicemente morali, la decadenza è manifesta. Fruassar in L'Orloge Amorose mette a confronto tutti i dettagli dell'amore con le varie parti di un segnatempo. Chastellene e Molinè competono tra loro nel simbolismo politico. I tre possedimenti rappresentano le qualità della Vergine, i sette elettori dell'impero significano le virtù. Le cinque città di Artois e Nol, che nel 1477 rimasero fedeli alla casa di Borgogna, sono le cinque vergini sagge. In realtà questo simbolismo capovolto usa cose di ordine superiore come simboli di cose di ordine inferiore, poiché questi autori in effetti elevano le cose terrene a un livello superiore, impiegando concezioni sacre semplicemente per adornarle. Il donatus moralisatus talvolta, ma eronamente attribuito a Gerson, confonde la grammatica latina con la teologia. Il sostantivo è l'uomo, il pronome significa che è un peccatore. Il grado più basso di questo tipo di attività mentale è rappresentato da opere come Le Parmains et Triumph des Dames di Olivier de la Marche, in cui ogni articolo di costume femminile simboleggia una virtù, tema sviluppato anche da Cochila. La pantofola ci dà solo salute e tutto il profitto senza gravi malattie. Per dargli un tono di autorità le do il nome di umiltà. Allo stesso modo le scarpe significano cura e diligenza, le calze perseveranza, la risoluzione della gerrettiera, eccetera. È chiaro che agli uomini del Quattrocento questo genere non appariva così sciocco come a noi, altrimenti non l'avrebbero coltivato con tanto gusto. Siamo così portati a concludere che, per la mente del Medioevo in declino, il simbolismo e l'allegoria non avevano ancora perso tutto il loro significato vivente. La tendenza a simboleggiare e a personificare era così spontanea che quasi ogni pensiero di per sé assumeva una forma figurativa. Ogni idea, essendo considerata come un'entità e ogni qualità come un'essenza, furono subito investite dall'immaginazione di una forma personale. Dionigi il Certosino, nelle sue rivelazioni, vede la Chiesa in pieno come personale a forma come quando era rappresentata in un'allegoria sul palcoscenico. Una delle sue rivelazioni tratta della futura riforma della Chiesa, come aspicava la teologia del XV secolo, una Chiesa purificata dai mali che la macchiavano. La bellezza spirituale di questa Chiesa purificata si rivelava alla sua visione sotto la forma di una veste superba e preziosa, dai colori e dagli ornamenti meravigliosi. Un'altra volta vedeva la Chiesa perseguitata, brutta, anemica e indebolita. Dio lo avvertì che la Chiesa avrebbe parlato e Dionigi poi sentiva la voce interiore come se provenisse dalla persona della Chiesa, quasi ex persona ecclese. La forma figurativa che il pensiero assume qui è così diretta e così sufficiente a evocare le associazioni desiderate che non si sente bisogno di spiegare l'allegoria in dettaglio. L'idea di una splendida veste è del tutto adeguata per esprimere la purezza spirituale. Il pensiero qui si è risolto in un'immagine così come può risolversi in una melodia. Ricordiamo ancora una volta i personaggi allegorici del romano della Rose. A noi richiedono sforzo immaginarci buona accoglienza, dolce misericordia, umile richiesta. Per gli uomini del Medioevo invece queste figure avevano un valore estetico e sentimentale vivissimo che le poneva quasi allo stesso livello di quelle divinità che i romani concepivano per astrazioni come Pavor e Pallor, Concordia eccetera. Per le menti del Medioevo in declino dolce pensiero, onta, ricordi e gli altri erano dotati di un'esistenza quasi divina. Altrimenti il romano della Rose sarebbe stato illeggibile. Una delle figure è passata addirittura dal suo significato originario o un significato ancora più concreto. Pericolo, in gergo amoroso, significava il marito geloso. L'allegoria è spesso chiamata ad esprimere un pensiero di particolare importanza. Così il vescovo di Chalon, volendo rivolgere a Filippo il Buono una gravissima rimostranza politica, le diede una forma allegorica e la presentò al duca di Esdin il giorno di Sant'Andrea del 1437. Olteste Signori, cacciata dall'impero, fuggito prima in Francia, accanto alla corte di Borgogna, era inconserabile e si lamentava di essere straziato anche lì da una incuria del principe, debolezza di consiglio, invidia dei servi, esazione dei sudditi, per scazzare la quale bisognerà opporre loro la vigilanza del principe, eccetera. Insomma, tutto l'argomento politico ha assunto la forma di un tableau vivant invece che di un articolo di giornale, come sarebbe accaduto a noi. Evidentemente questo era il modo per creare un'impressione e ne consegue che l'allegoria aveva ancora una forza suggestiva di cui facciamo molta fatica a renderci conto. Il Borghese di Parigi, nel suo diario, è un uomo prosaico che si preoccupa poco di abbellire il suo stile. Tuttavia, quando arriva agli eventi più orribili che deve riferire, vale a dire gli omicidi borgognoni a Parigi, nel giugno 1418, sale subito all'allegoria. Allora sorse la dea della discordia, capitava nella torre del malvagio consiglio, e risvegliò l'ira, la pazza e la cupidigia, la rabbia e la vendetta, e presero le armi di ogni sorta e scacciarono la ragione, la giustizia e il ricordo di Dio e moderazione, vergognosamente. La sua narrazione dell'atrocità commessa è interamente composta in modo simbolico. Poi la follia l'infuriata e l'omicidio e il massacro uccisero, abbatterono, misero a morte, massacrarono tutto ciò che trovarono nelle prigioni, e la cupidigia si rimboccò le gonne nella cintura con Rapine, sua figlia, e Larsenny, suo figlio. Poi le suddette genti andarono sotto la guida del loro dee, cioè l'ira, la cupidigia e la vendetta, che le condussero per tutte le pubbliche prigioni di Parigi, eccetera. Perché l'autore usa qui l'allegoria? Per dare al suo racconto un tono più solenne di quello che usa per gli avvenimenti quotidiani, che generalmente annotano il suo diario. Sente la necessità di considerare questi atroci avvenimenti come qualcosa di più che i delitti di pochi singoli malfattori. L'allegoria è il suo modo di esprimere il suo senso della tragedia. È proprio quando l'allegoria ci irrita di più, che rivela pienamente il suo dominio sulla mente medievale. Possiamo sopportarlo più o meno in un tableau vivant, in cui le figure convenzionali sono avvolte in un abito fantastico e irreale. Il Quattrocento veste le sue figure allegoriche, così come i suoi santi, del costume del tempo, e ha la facoltà di creare nuovi personaggi per ogni pensiero che vuole esprimere. Per raccontare la morale di un giovane vertiginoso, portato alla rovina dalla vita di corte Charles de Rochefort, il Labusé-en-Court, inventa tutta una nuova serie di personaggi, come quelli della Rosa, e queste oscure creazioni, Folquidier, Folle Bombas, Stock Credulità, Spettacolo Sciocco, e il resto, e sono rappresentati nelle miniature che illustrano l'opera come nobili dell'epoca. Il tempo stesso non ha bisogno di barba o falce e appare in farsetto e calzamaglia. L'aspetto molto banale di queste allegorie è proprio ciò che mostra la loro vitalità. Possiamo capire che una forma umana sia attribuita le virtù ai sentimenti, ma lo spirito del Medioevo non esita ad estendere questo processo a nozioni che, per noi, non hanno nulla di personale. La personificazione della Quaresima era un tipo ampiamente conosciuto dal 1300 in poi. Lo troviamo nel poema La battaglia de Carême et de Charnage, un tema che Peter Bruegel riprenderà molto più tardi e illustrerà con la sua folle fantasia. Un proverbio corrente diceva In altre città della Germania settentrionale, una bambola, chiamata Lent, veniva sospesa nel coro della chiesa e tolta durante la messa del mercoledì prima di Pasqua. C'era differenza tra l'idea che il popolo si faceva dei santi e quella dei personaggi puramente simbolici? Indubbiamente i primi erano riconosciuti dalla chiesa, avevano un carattere storico, estate di legno e di pietra, ma i secondi erano in contatto con la fantasia vivente e in fondo c'era chiedersi se alla fantasia popolare, buona accoglienza o facente sembiante non apparivano reali come Santa Barbara San Cristoforo. D'altra parte non c'era un vero contrasto tra l'allegoria medievale e la mitologia rinascimentale. C'è piuttosto una fusione. Le figure mitologiche sono più antiche del rinascimento. Venere e Fortuna ad esempio non erano mai morte del tutto e l'allegoria d'altro canto mantiene a lungo la sua moda dopo il quindicesimo secolo, in nessun luogo più forte che nella letteratura inglese. Nella poesia di Froassar, dolce sembiante, rifugio, pericolo e nascosto si vedono contendere per così dire con figure mitologiche come atropo, cloto e lachesi. Dapprima queste ultime sono meno vive e colorate delle allegorie, sono noiosi e ombrosi e non hanno nulla di classico. A poco a poco il sentimento rinascimentale porta però a un cambiamento completo. Gli dèi dell'Olimpo e le linfe hanno la meglio sui personaggi allegorici che svaniscono. Il simbolismo con la sua allegoria servile alla fine diventa un passatempo intellettuale. La mentalità simbolica era un ostacolo allo sviluppo del pensiero causale poiché le relazioni causali e genetiche dovevano necessariamente apparire insignificanti accanto alle connessioni simboliche. Così il simbolismo sacro dei due luminari e delle due spade sbarrò per lungo tempo la strada alla critica storica e giuridica dell'autorità papale. Poiché la simbolizzazione del papato dell'impero come il sole e la luna o come le due spade portate dai discepoli era per la mente medievale molto più di un paragone sorprendente, rivelò il fondamento mistico dei due poteri e stabilì direttamente la precedenza di San Pietro. Dante per indagare il fondamento storico del primato del papa dovette prima negare la proprietezza del simbolismo. Non era lontano il tempo in cui le persone erano destinate a rendersi conto dei pericoli del simbolismo, quando le allegorie arbitrari e futili sarebbero diventate sgradevoli e sarebbero state respinte come ostacoli del pensiero. Lutero li ha bollati in un'invettiva che si rivolge ai più grandi luminari della teologia scolastica, Buonaventura, Guillaume Durand, Gerson e Dirigi il Certosino. Questi tutti allegorici esclama su un'opera di persone che hanno troppo tempo libero. Credi che dovrei trovare difficile giocare a fare allegorie su qualsiasi cosa creata? Chi è così deboli di intelligenza da poter non provarci? Il simbolismo era una traduzione difettosa in immagini di connessioni segrete vagamente percepite, come la musica ci rivela. Videmus nunc per speculum in enigmate. La mente umana sentiva di trovarsi di fronte a un enigma, ma non di meno continuava a cercare di discernere le figure nel vetro, spiegando le immagini con altre immagini ancora. Il simbolismo era come un secondo specchio posto davanti a quello del mondo fenomenico stesso. Ecco, la seconda parte del capitolo non aggiunge tante cose particolari, rincara la rosa con tutta una serie di esempi. Ad esempio, si sofferma all'inizio sul simbolismo dei numeri, per cui il numero diventava importante, bisognava trovare la regolarità dei numeri, quindi sette sono i sacramenti, sette i vizi, sette qua, sette là, quattro le stagioni, quattro gli evangelisti, eccetera, eccetera, eccetera. Per ogni cosa trovare simboli numerici e poi anche forzando insageratamente le cose. Alla fine vi cita questo Len della Roche che si era fissato con il numero 150 perché faceva recitare 150 Ave Maria, 150 Pater Noster, Pari Nostri ai membri della sua confraternita, allora bisognava anche giustificare questo numero 150 e dunque Rava cerca di 10 comandamenti da moltiplicare con le 15 virtù, ma le virtù non erano veramente 15, gli venivano o 7 o 12 o 16, quindi tutti gli aggiustamenti numerici per far quadrare i conti. segno che questa mania per le allegorie o per i simbolismi era una cosa ridicola, sostanzialmente ridicola, lo dice chiaramente Huizinga, però noi oggi la percepiamo come ridicola, gli uomini del Medioevo non la percepivano come ridicola, divenne quasi un passatempo intellettuale, era quasi una gara a trovare i migliori simbolismi da usare perché c'era sempre questa idea che dietro al simbolo ci fosse una realtà più profonda, una connessione col divino, in fondo parlare come dicevamo prima di idee che unificano, voleva dire parlare di idee nella mente di Dio, ti portava a Dio in un certo senso, quindi c'era comunque un salto tra il mondo fenomenico cioè quello che appariva e quello che c'era nascosto dietro e giocare sui numeri, sui simboli, sulle allegorie sembrava quasi poter consentire di passare al mondo che c'era nascosto dietro e questo interessava l'uomo del Medioevo ovviamente, poi fa tutta una serie di altri esempi, come mai queste allegorie così forti, il Romano della Rosso che abbiamo citato in qualche capitolo precedente, aveva questi personaggi, dolci misericordia, buona accoglienza, umide richiesta, certo, erano personificazioni ma lo scritto medievale personificava tutto, ogni volta che un cronachista come nel caso del borghese di Parigi voleva raccontare qualcosa ma dagli anche un tono solenne personificava, invece di dire si sono massacrati a vicenda diceva è arrivata la follia, è arrivata la violenza con la V maiuscola che ha fatto strage cioè linguaggio simbolico altisonante perché sembrava più forbito invece di dire sono arrivati cento uomini hanno massacrato altri cento uomini, no, è arrivata, è scesa in terra la violenza con la V maiuscola, ecco questo ricorso al simbolismo, all'allegoria era sempre presente anche in maniera esagerata ovviamente e sarà solo in età moderna che si inizierà a criticare questo ricorso esagerato all'allegoria e al simbolismo, anche se per un po' in realtà semplicemente si chiameranno i simboli invece di usare le allegorie medievali si useranno altre allegorie si useranno non più i santi o le figure del mito cristiano quanto piuttosto magari gli dèi romani che erano ripresi dal rinascimento. Però alla fine si conclude tutto questo discorso con in fondo la invettiva di Lutero che dice ma chi stava qui a fare queste allegorie doveva avere molto tempo libero. Ecco e questo è quanto, abbiamo letto e commentato tutto il capitolo 15, un capitolo intenso abbastanza lungo avete sentito, anche teoricamente dal punto di vista teorico un po' complesso soprattutto la prima parte sugli universali però insomma l'abbiamo fatto e siamo andati ulteriormente avanti e la nostra lettura non manca tantissimo ormai ci avviamo verso la fine del libro, le cose più importanti in fondo sono abbastanza già venute fuori però continueremo e lo finiremo ovviamente presto nuova puntata anche della lettura integrale commentata dell'autunno del Medioevo. Per il resto come al solito arrivano con costanza video di storia, filosofia ed educazione civica, vi ricordo per chiudere che in descrizione trovate i capitoletti, la divisione trovate la playlist per le puntate precedenti se ve le siete perse, trovate anche i modi per rimanere in contatto, newsletter e social network e trovate anche i modi soprattutto per sostenere il canale, se vi piace quello che faccio e volete darmi una mano a farlo sempre meglio potete abbonarvi al canale che è la modalità forse più simpatica perché in cambio di pochi euro al mese ricevete anche dei vantaggi esclusivi e se no ci sono donazioni, libri, videocorsi, varie cose che potrebbero anche interessarvi e ci danno una piccola mano. Dateci un'occhiata tutto in descrizione. Ho finito, ci vediamo presto per altri video, ti dicevo, di l'autunno del Medioevo e poi per tante altre questioni. Ciao, alla prossima!